Siamo con Saverio Tridico, direttore Public and Legal Affairs di Vodafone Italia, siamo a Pontecchio Marconi alla presentazione di una ricerca della Fondazione FUB e COTEC sul capitale umano, ICT e competitività. Questa ricerca, dottor Tridico, evidenzia che gli skill, le competenze sullo mercato italiano sono a disposizione, più che altro c'è una sproporzione evidente tra la domanda e l'offerta. A questo proposito vorrei chiederle quanto è importante la valorizzazione delle risorse e del capitale umano in un'azienda come Vodafone Italia? È un'ottima domanda, devo dire che la discussione di oggi ha fatto emergere la responsabilità che come classe dirigente di questo Paese, sia sul fronte istituzionale che accademico e naturalmente anche delle leadership delle imprese, dobbiamo sentirci guardando al nostro futuro, ai nostri giovani e mi chiedo se siamo veramente in grado di capire quanto i nostri giovani vivono le loro difficoltà di ingresso in questo sistema. Se penso alle caratteristiche tipiche delle nuove generazioni, mi chiedo veramente se siamo in grado di dargli tutta la strada che meritano davanti a loro. Un altro elemento della ricerca ha evidenziato purtroppo una scarsa propensione delle nostre aziende, del settore ICT, quindi anche delle aziende italiane, propensione all'innovazione e alla ricerca. Da questo punto di vista qual è invece la prospettiva di Vodafone? Ma allora come Vodafone abbiamo un piano di investimento sia sul fronte naturalmente dell'ingresso, dell'accesso attraverso il merito, unica regola diciamo universale per la crescita all'interno dell'azienda, sul fronte delle risorse, nonché abbiamo naturalmente una grossa parte dei nostri investimenti dedicata specificatamente alla ricerca e sviluppo. Dopodiché, guardando al futuro, visto che parliamo naturalmente in un contesto in cui finalmente si parla di un'agenda digitale per il nostro futuro, guardiamo anche a quella che è la realtà che oggi riusciamo a offrire alle nuove generazioni, a una generazione che cresce attraverso multitasking, a una diversità di accesso al collegamento ad internet. I dati ultimi del mese ci dicono che 3 milioni e mezzo di persone nel nostro paese non possono avere accesso ad internet perché sono totalmente fuori. Parliamo del 7% della nostra popolazione. Io credo che sotto questo punto di vista, nel progetto di un paese che ha l'ambizione di guardare al futuro con ottimismo, dobbiamo ripensare veramente anche a un tema di infrastrutture e dunque di reti di nuova generazione con una logica di sistema. Grazie a Saverio Tridico di Vodafone Italia. Grazie a voi.